Buongiorno a tutti, sono Marco Bessi e sono il responsabile italiano per la prevenita di Neo4j. Eccoci di nuovo qui per una puntata di 10 minuti con Neo4j ed in particolare della sottotratraccia algoritmo del mese. Questa settimana ci concentreremo su una delle classi di algoritmi più importanti per la graph data science, ossia i node embeddings. Iniziamo con la definizione di node embeddings. Un node embedding è la rappresentazione di un nodo come vettore che riassume la sua posizione nel grafo, la struttura delle connessioni con i nodi vicini e le proprie feature. Permette quindi di tradurre un'informazione multidimensionale come un grafo in un'informazione monodimensionale sotto forma di vettore, mantenendo il livello di precisione dei dati, rendendo quindi il risultato risultante una buona approssimazione del grafo stesso. I passi necessari per il calcolo del nodo embedding sono 4. Numero 1, definizione della funzione di encoder che traduce le informazioni del nodo nel grafo nell'embedding. Numero 2, definizione della funzione di similarità che produce uno scorre di due nodi nel grafo originale. Numero 3, definizione della funzione di decoder che traduce l'embedding nel nodo all'interno del grafo. Numero 4, ottimizzazione dei parametri della funzione di encoder, tale per cui ci sia la miglior perdita di informazione tra il grafo di partenza e il grafo ricostruito a seguito della funzione di encoder decoder. In particolare, la funzione di encoder mappa i nodi del grafo in un vettore di embeddings. Come possiamo vedere dall'immagine, la funzione di encoding traduce il contenuto informativo del nodo U, composo dalle proprie feature e dalle proprie relazioni entranti e uscenti, in un vettore di numeri reali. Invece, il ruolo del decoder è quella funzione che predice la similarità tra una coppia di nodi. Quindi, applicando il decoder a una copia di embedding generata da un decoder, si otterrà il grado di relazione tra i due nodi selezionati. L'obiettivo dell'algoritmo di node embeddings è quello di minimizzare la perdita di informazioni tra encoding e decoding, ossia di ridurre il più possibile la differenza tra la similità dei nodi in termini di feature e relazioni tramite la funzione random walk e il valore di similarità calcolato dalla funzione decoder. Quindi, dicevamo che vogliamo avere i due score di similarity più simili possibile, ossia vogliamo identificare la probabilità che i due nodi U e V siano sullo stesso random walk all'interno del grafo. Stimiamo quindi la probabilità di visitare il nodo V generando dei random walk a partire dal nodo U. Quindi, ottimizziamo gli embedding, ossia i nostri vettori di numeri ideali, tali per cui la similarità tra i vettori sia il valore più simile alla probabilità precedentemente calcolata con il random walk. Nella Graph Data Science Library sono presenti tre algoritmi di node embedding, node2vec, graph sage e fast random projection. Oggi ci concentreremo sull'ultimo di questi, FASTERP. FASTERP sta per FASTER random projection. Ma cos'è una random projection? È un metodo di riduzione di dimensionalità che preserva la distanza tra i singoli punti. FASTERP si basa sul lemma di Johnson-Linder-Strauss che dice che è possibile proiettare n vettori di dimensione arbitraria in un vettore di dimensione log n e comunque preservare la distanza tra i punti. A tutti gli effetti, una proiezione lineare scelta in modo random soddisfa tale proprietà. L'algoritmo FASTERP, in prima istanza, assegna un vettore random a tutti i nodi usando una tecnica chiamata Very Sparse Random Projection. In 4J è possibile usare la feature dei nodi iniziali per creare questi vettori iniziali. A partire da questi vettori e mediandoli iterativamente con quelli di nodi vicini, l'algoritmo costruisce una sequenza di embedding intermedi tra ogni nodo n, dove m rappresenta la numerosità dei vicini per similarità di n e e di 0 n rappresenta il vettore random iniziale. L'embedding DE di un nodo n è dato dalla normalizzazione degli embedding intermedi sopra definiti. L'algoritmo implementato in 4J tiene conto anche dei pesi della relazione e, vista la forma extended di FASTERP, anche delle proprietà dei singoli nodi. Per fare ciò, prima esegue l'algoritmo standard di FASTERP e successivamente esegue una combinazione lineare dei vettori delle proprietà da tenere in considerazione, usando i valori delle proprietà dei nodi come pesi. Come è possibile vedere dal confronto con altri algoritmi di embeddings, FASTERP risulta essere estremamente più veloci di Node2Vec, questo pur mantenendo un'accuratezza elevata, in alcuni casi anche più alta di Node2Vec stesso. L'applicabilità di un algoritmo di non embeddings è molto elevata, proprio perché può essere utilizzato come ponte tra il mondo dei dati connessi e quindi dei grafi con il mondo del machine learning. Infatti, i vettori possono essere usati come input di un modello di machine learning per non classification o per modelli di neural network, oltre ovviamente a poter essere utilizzati come dato intermedio, facendo feature engineering per altri algoritmi. Gli embedding possono essere utilizzati per confrontare i nodi tra di loro tramite algoritmi di similarità più tradizionali come il KNN o così in similarity, rispetto agli algoritmi di non similarity. Infatti, viste le performance della copiata NodeEmbedding più KNN, sono nettamente più alte rispetto a quelle del singolo Node Similarity, quando i nodi in esame crescono oltre le decine di milioni di nodi. Inoltre, gli embedding potrebbero essere anche usati per permetterne una visualizzazione dei nodi sotto forma di vettori grafici o in uno spazio bidimensionale come un grafico per rendere fruibili e interpretabili dagli utenti di un'applicazione. Ma guardiamo adesso degli esempi. Prendiamo questo grafico d'esempio in cui i nodi person hanno delle relazioni nose tra di loro. Andiamo adesso a creare una proiezione dei dati composta da nodi person collegati dalle relazioni nose, però eliminandone l'orientamento. A questo punto è possibile procedere con l'esecuzione di FastRP in modalità Bright per generare un embedding di dimensione 2, scrivendo all'interno dei nodi person la proprietà FastRP Embedded. E questo è il risultato generato per ogni nodo. Come si può vedere, l'embedding è un vettore di due numeri reali. Eventualmente, come controllo, potremo procedere con l'esecuzione dell'algoritmo di cosine similarity, ordinando in modo di crescente lo score di similarity ottenuto. Come si può vedere, Jeff, Annie e Brie sono vicini tra di loro e questo si riflette sia nell'embedding che nello score di similarity. Mentre Dan e Elsa sono i nodi più distanti del grafo, con distanza 3, e questo si riflette ovviamente anche in questo caso sia nell'embedding che nello score di similarity. Continuiamo con un esempio più complesso, il progetto Gutenberg. Il progetto Gutenberg si occupa di digitalizzare e archiviare libri e, più in generale, ogni artefatto culturale non sottoposto al copyright e che è possibile distribuire online gratuitamente. In questo use case di Natural Language Processing abbiamo lavorato nella generazione del dataset con Python e successivamente abbiamo caricato dati risultati su Neo4j. Il modello dei dati finali è quello riportato in questa slide. Come è possibile vedere il modello è composto da tre label. Autor, ossia gli autori dei libri, comprensivi di ID, nome, cognome e anno di nascita. Book, ossia il libro stesso, con il proprio ID e il text embedding da 512 generato in Python. Bookshelf, ossia la categoria del libro stesso. L'idea è stata quindi quella di generare una nuova proprietà fasterp embedding da usare per addestrare un modello del machine learning per eseguire node classification. Prendere questo modello applicabile anche a nuovi dati, ossia a nuovi libri, non ho voluto complicare troppo il node embedding da generare in fase iniziale, con feature che magari non potevano avere senza nuova attività di feature engineering. Fasterp viene chiamato in modalità write. La proprietà fasterp embedding sarà un embedding di 768 per tenere traccia sia delle informazioni provenienti dal text embedding, che ricordiamo è un embedding di 512, e della relazione same motor che viene creata al caricamento di ogni nuovo book nel database. A questo punto ci troviamo nella situazione in cui abbiamo un'unica feature, il fasterp embedding, che può essere utilizzata per addestrare il modello di node classification. In seguito, il modello potrà essere utilizzato per classificare nuovi book, semplicemente dopo aver generato il test embedding, le relazioni same motor e quindi il fasterp embedding. Ovviamente, come è mostrato in questo caso, la nuova feature generata può anche essere uno dei dati esportati estremamente da Neo4j per elaborare le informazioni in pipeline esistenti, portandosi con sé non solo le info delle feature, come accade solitamente, ma anche le informazioni quali è relativa alle relazioni e alla struttura del grafo, prerogativa solo di un database al grafo come Neo4j e della propria Graph Data Science Library. Per completezza, riporto qui inestrato della successiva pipeline di machine learning, di cui prima parleremo in un'altra puntata dell'algoritmo del mese. Crea la pipeline e seleziono il set di feature su cui addestrare il modello, definendo quindi come target property, l'ID della classificazione del libro. Infine, nell'ultima cipher, viene effettuata la predizione con il subset di test, generando la nuova property predicted bookshelf class ID. Nella slide sono riportati i processi per l'addestramento della rete e per la predizione di nuovi libri. In blu possiamo vedere la fase più importante, ossia quella della generazione dell'embedding con FastRP, che permette, tramite un'unica feature, di racchiudere sia le informazioni provenienti dalle feature del nodo con il text embedding, che da quelle provenienti dalle relazioni e della struttura del grafo stesso, con Same Author. E con questo esempio allargato, si conclude anche la puntata relativa ai nodi embedding, e più in particolare a FastRP. Come ogni volta, vi invito per qualsiasi domanda di vostro interesse a contattarmi su LinkedIn o via mail all'indirizzo riportato in questa slide. Con questo vi saluto, vi auguro buona giornata e arrivederci alla prossima puntata.